Punto Meteo, previsioni meteorologiche a cura dell'OSMER, osservatorio meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Un buongiorno ben ritrovati al nostro appuntamento con il meteo regionale, sentiamo com'è il tempo con Livio Stefanotto ben ritrovato, buongiorno. Eccomi qua, ciao, buongiorno a tutti, ma cosa possiamo dire? C'è lo sereno oggi, è giornata estiva, decisamente estiva anche oggi, quindi il cielo rimane bello soleggiato, il tempo è un po' più stabile rispetto ai giorni scorsi perché abbiamo aree ancora più calda in quota e questo rende l'atmosfera meno instabile, quindi i temporali rimangono più confinati in Austria, in Tirolo, anche se non escludiamo che nel pomeriggio qualcosina possa arrivare anche da noi sull'Alta Carnia vicino al Veneto, ma direi che la probabilità è piuttosto bassa, quindi il tempo rimane buono, soleggiato, temperature in rialzo deciso, siamo già in pianura attorno ai 29-30 gradi e credo che raggiungeremo anche oggi i 35, caldo a foso e sulla costa venti di Brezza, Brezza che nel pomeriggio sarà anche piuttosto gagliarda, quindi farà entrare, si starà meglio insomma lungo la costa perché le temperature rimangono un po' più basse, però fa entrare umidità e quindi l'atmosfera diventa via via più a fosa, sia in pianura nel pomeriggio sia sulla costa in serata. Per domani direi ancora bello, soleggiato, caldo, estivo, caldo a foso e poi si avvicina il fronte, già in serata potrebbe esserci qualche episodio temporalesco in montagna come casa da visita e poi domenica, sembrerebbe già in mattinata in questo momento, però bisognerà aggiornarsi un attimino per vedere esattamente la tempista che è domenica, ma ci aspettiamo qualche temporale anche sulla pianura e sulla costa. Benissimo, allora da domenica quindi cambio del tempo, una bella respirata, un bel polmone assolutamente sì, perché calano le temperature e rimarrà un po' più fresco anche i primi due giorni del prossimo settimana. Bene, allora Livio grazie, noi ovviamente ci riaggiorniamo per i dettagli, una buona giornata. Ciao, ciao a tutti. Se mi ami, mostrami il tuo cuore. Te ne regalo ben tre. Mmm, effervescente naturale. Sete di salute, tre cuori per tre desideri. Acqua radensca, ripristina l'idratazione del corpo, dona calcio e magnesio, apporta sali e minerali, aiuta la digestione. Acqua radensca, abbandonatevi al benessere che giova alla vita.